Grazie mo Vediamo se li può andare a inserire nel team 143 milioni Che dire amico mio? Mi sa che com'an ce ne facciamo nulla Classifica profitto? Primo al mondo nelle... Sì, Vinze è primo al mondo nei profitti mercato Quindi questo qua è ufficialmente l'account più ricco del gioco Sì